le anticipazioni di endless love turche ci raccontano che emir rapirà deniz la figlia di niale kemal stiamo parlando della seconda stagione il suo intento non sarà solo quello di vendicarsi ma anche di fare in modo che la donna dalla quale è ossessionato rinuncia che mal per stare con lui sebbene sia consapevole che non lo amerà mai emir però non potrà mai immaginare la reazione di nian che pur di rivedere la sua bambina darà fuoco alla casa e giurerà che alla prossima occasione anche lui brucerà tra le fiamme nian prenderà dalla tannica di benzina e la cospargerà in tutte le stanze della casa di emir per cancellare ogni ricordo impregnerà anche le foto che la ritraggono insieme a lui successivamente andrà all'esterno in giardino e nella sua mente passeranno veloci le scene in cui emir l'ha umiliata ma non solo si ricorderà anche le parole che poco prima le ha susserrato kemal nian se il mio cuore batte è solo per te così sopraffatta dall'odio e dal dolore darà fuoco con l'accendino le fiamme saliranno alte e ingoieranno tutto quello che troveranno davanti come vi dicevo nian giurerà vendetta ad emir se non riavrà la sua adorata bambina presto tra le fiamme ci finirà anche lui ma emir non cederà così facilmente questo è certo voi cosa ne pensate scrivetemelo giù nei commenti lascia il mio like se ti va e iscriviti al mio canale io ti aspetto come sempre per questo ma per tanti altri prossimi video io ti aspetto